Vuoi cambiare il mondo, vero? Se stai guardando questo video, è perché sei impegnato nella difesa della vita, della famiglia e della libertà. Ma sai quanto è importante per cambiare il mondo ogni passo che fai in Citizen Go? Quando uno qualsiasi dei valori che noi condividiamo in pericolo, Citizen Go crea una petizione rivolta alle persone, ai governi o alle istituzioni che decidono. Se la ricevi e la firmi, cominci a cambiare le cose. Se poi condividi con altri la petizione, ne moltiplicherai le possibilità di successo, aiutandoci così a crescere e ad influire di più sulla società, per costruire dovunque una grande comunità pronta a cambiare il mondo. La tua voce è importante e risuona più forte insieme a tutte le altre voci che vogliono cambiare le cose. Con Citizen Go ti diamo la possibilità di farti ascoltare dai potenti, consegnando le firme ai responsabili delle decisioni. E verrai informato sulle nostre attività perché tu possa partecipare direttamente alle nostre campagne. Grazie al tuo sostegno economico, potremo continuare a lavorare strategicamente in tutto il mondo per acquisire una maggiore visibilità e per realizzare nuove campagne. Se vuoi, attraverso un contributo mensile, ci aiuterai a difendere i nostri valori comuni ogni qualvolta sarà necessario. Come vedi, i successi di Citizen Go sono i tuoi successi. Con il tuo coinvolgimento e il tuo impegno, riusciamo a diventare più forti, più grandi, più influenti e a volte, grazie a te e ad altri come te, otteniamo successi importanti che cambiano davvero il nostro mondo. Grazie di essere con noi, grazie del tuo contributo, grazie perché tu sei e fai Citizen Go.